Non cerchiamo certamente vendette, è ovvio che se ci sono colpevoli vanno condannati, se ci sono innocenti vanno assolti, ma quello che conta di più per gli abruzzesi è la bonifica di quei territori. Occorre restituire agli abruzzesi l'acqua di falda pulita, occorre restituire agli abruzzesi il fiume pescare pulito e bisogna eliminare quelle discariche che continuano a fare danno tutti i giorni, anche in questo momento continuano a fare danno. Questa è la vera giustizia.